Arriva a Lecce l'essenza antipiccione. Si tratta di un formulato a base di un mix di erbe. Non è tossico, è totalmente igienico ed è completamente naturale. Non ferisce, non procura alcuna sofferenza, ha impatto pressoché nullo ed è efficace contro i piccioni al 100%. E' il nuovo rimedio che dopo una prima fase di sperimentazione verrà adottato in città su iniziativa dell'assessorato all'ambiente al fine di prevenire i pericoli per la salute dei cittadini, i danni al decoro del centro storico e i vari disagi che la massiccia presenza di questi volatili è sovente provocare. L'arma segreta di Andrea Guido è un pongo antipiccione, una sostanza che ha la consistenza del DAS, la celebre pasta sintetica per plasmare e modellare, tanto amata dai più piccini. Il prodotto ha un odore che allontana gli uccelli infestanti. Si tratta quindi di una soluzione innovativa, completamente ecosostenibile e che raggiunge risultati eccellenti senza impiegare pericolose sostanze chimiche. Il metodo è stato anche approvato dalla Lipu e dall'EMPA, proprio perché non mette a rischio la salute dei volatili. Con la crescita della popolazione dei colombi e le segnalazioni dei cittadini per i disagi che questi animali provocano, si è reso necessario pensare ad una soluzione per risolvere o quantomeno attenuare il problema in maniera decisa, commenta l'assessore Andrea Guido. Nei mesi scorsi ho chiesto alla società Delco, affidataria dei servizi di disinfestazione e deratizzazione in città, di trovare una soluzione che permettesse, se non di eliminare, perlomeno di ridurre i danni che i piccioni provocano agli edifici e all'arredo urbano e i pericoli derivati dalla loro presenza per la salute dei concittadini. Ma doveva trattarsi di un rimedio non cruento, visto che i volatili, come tanti altri animali, sono e devono essere tutelati? Così i tecnici dell'azienda leccese mi hanno proposto la soluzione del disabituante naturale. Ma come funziona questo sistema? La sostanza viene posizionata su tetti, cornicioni, terrazzi e balaustre, ma a differenza dei vecchi rimedi fatti di chiodi e ferri appuntiti, che spesso finiscono per ferire anche gravemente gli animali, riesce a tenere lontano i piccioni attraverso un particolare odore emanato. In pratica, quando si avvicinano in volo ai dispenser contenenti la sostanza disabituante, gli uccelli avvertono un odore per loro insopportabile, ma non percepibile dall'uomo e sono costretti a trovare un approdo alternativo. Con questo disabituante naturale, in aggiunta alla funzione spontanea dei nostri amici falchi grillai, che ormai siamo riusciti a trasformare in degli abituai dei tetti delle nostre case e delle nostre chiese barocchie, siamo pronti per sferrare l'ultimo attacco non violento ai piccioni leccesi. Grazie. 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 Grazie.